Bentornati su MyFootballGersie! Oggi vi mostro la prima maglia del Benfica per la prossima stagione, in edizione FAN! Oggi vi mostro la prima maglia del Benfica per la prossima! Il Benfica l'anno scorso ha stupito tutti in Champions League con una grandissima stagione! Questa maglia è veramente molto bella e, al costo che vedete qui sopra, veramente un affare imperdibile! Qua sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia! Molto importante, trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso! Ora vi lascio la parte finale, prima però ricordatevi di mettere un grande like, ma soprattutto di iscrivervi al canale! A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni! Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa! Quella che vedete è una taglia media della versione FAN! A presto! A presto! Grazie a tutti.